oh eccola fermati quello di prima l'abbiamo visto eccolo qua fermati scusa scomparsa una persona no abiti qua a te abiti qua nico vai avanti nico fermati non c'è nessuno non c'è nessuno qua questa qui non c'era questa qui non c'era che era solo questa qui c'erano gli albi che cazzo com'è quella storia a